Un sacerdote deve avere spirito di preghiera e di servizio, stare sulla torre della contemplazione per essere il tramite tra Dio e il popolo, come Mosè sulla riva del Mar Rosso a proteggere i suoi dall'attacco del Faraone. E poi giù, come Cristo mischiato alla gente e ai suoi bisogni, in cerca soprattutto di quelli per i quali nessuno spende uno sguardo. Lo ha detto Papa Francesco ai partecipanti al quinto capitolo generale dei sacerdoti del Movimento Apostolico di Schoenstatt, ricevuti in udienza questa mattina. Il ramo del Movimento, fondato dal padre Joseph Kentenich, celebra i 50 anni dall'istituzione. Il sacerdote non sta sopra i fratelli, né davanti o altrove, ma cammina con loro, amandoli con l'amore di Cristo, ha aggiunto il Papa. Chiediamo al Signore che ci dia spalle come le sue, forti, per caricarvi coloro che sono senza speranza e per liberarci dal carrierismo della nostra vita sacerdotale. Non abbiate paura della realtà, ha consigliato poi il Pontefice. La realtà bisogna prenderla come un bene, come il portiere, quando colpiscono la palla da lì, da dove viene, cerca di prenderla. Ci sono due diverse orecchie, una per Dio, una per la realtà. E infine, mai da soli, perché il Ministero Sacerdotale diventa ancora più bello quando è condiviso e la Fraternità è una grande scuola di discepolato. E per favore, ha concluso Papa Francesco, siate dei grandi perdonatori.